...fare con piccoli, un gluio di lì, vediamo qua, è il tipo di lavoro che ci dà felicità. Ed è perché qui sotto c'è di diamanti e d'or una grande quantità. E così, e così, e così, e così, ci trovate sempre qui. Sì, dalla mattina a sera siamo intenti a lavorare, scaldiamo e spicconiamo tutto quello che ci fa. Troviamo diamanti in quantità e altre gemme d'ogni qualità, anche se ne abbiamo da buttare, noi sempre chiamo a scavare. Ehi-ho, 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 a casa riposare.